Oggi è un momento di grande festa per noi perché appunto prende il via questo progetto partecipativo dedicato alla storia in cui sono state coinvolte tantissime persone, associazioni, gruppi, scuole e questo è un percorso che è stato appunto sostenuto e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un bando a cui abbiamo partecipato come Comune in capofila e lo scopo di questo progetto è proprio riportare la vita in questo spazio uno spazio come la storia che è un po' un simbolo per la città di Rimini un luogo caro a tantissime riminesi e riminesi quindi attraverso questo percorso riporteremo attività, iniziative, dibattiti culturali, feste proprio per ridare il luogo alla città e ridare questo luogo al quartiere stesso quindi sono stati coinvolti tutti i partner attivi anche sul territorio quindi insomma questa è una giornata particolarmente speciale perché veramente la storia in qualche modo riapre le sue porte e fa entrare nuovamente la città al suo interno